La sua storia ha fatto ben presto il giro della città ed anche oltre. Veronica Nigro, salernitana residente a Brignano, ha riportato una grave ferita dopo essere stata assalita in casa da un topo. Una situazione purtroppo non inusuale in un quartiere dove il comune, lamentano i residenti, non interviene praticamente mai. E ai microfoni di 8 Channel la giovane racconta quei momenti di terrore e la rabbia per una zona che si sente abbandonata al suo destino. Quando stavo raccogliendo i peluche, alzandone uno, il topo è saltato fuori, mi è saltato in faccia per evitare che mi colpisse. Io mi sono allontanata, sono caduta e so solo che mi sono trovata con questo sangue che scorreva e non ho neanche capito, ho riuscito a comprendere come mi fossi fatta male. Poi mi sono risa conto che avevo battuto contro uno spiccolo di una scrivania. Ero sola, mi è venuta l'ansia sinceramente, non riuscivo ad entrare a casa, mi hanno soccorsi vicini. C'è un comitato di quartiere che si occupa di queste cose, però in realtà il comune io non l'ho mai visto. Io pago delle tasse profumatissime, sono in affitto quindi pago anche l'affitto, io e mio marito facciamo tre lavori, i bambini non li vediamo mai. E lavorare così tanto per pagare tutte queste tasse e poi ritrovarsi dei servizi non offerti ti fa veramente innervosire. Questa mattina ho avuto un crollo emotivo, ero nell'ufficio dell'ASL. Io sono spaventato, due bambini non so se hanno potuto avere contatti con escrementi o urine di questo animale ed è indecente nel 2017 vedere ancora queste cose in un'abitazione.